Il dottor Santini, direttore commerciale di Fileni, a cui do il benvenuto. Buonasera a tutti, non so se mi sentite, buonasera, grazie per l'invito. Grazie, leggiamo Marinelli, ma in verità è Simone Santini, direttore commerciale. Sì, esattamente. Bene, allora... Marco Marinelli è il nostro responsabile marketing. Marketing, perfetto, abbiamo parlato di commerciale, quindi ci fa molto piacere averla. Le faccio subito una domanda a brucia pelo, ma volevo condividere con lei qualche riflessione sugli interventi che abbiamo ascoltato, soprattutto l'ultimo di parole, cosa ne pensa? Guardi, io credo una cosa, al di là di tutto, i temi sono stati toccati, io poi purtroppo, come lei ben sa, mi sono dovuto inserire solamente a metà del percorso, che avevo un problema, ma devo dire che al di là di tutto quello che è importante è che ci sia sempre il consumatore al centro. Io credo che oggi uno dei percorsi evolutivi che ci sta, tutte le industrie in qualche modo stanno vivendo, con i rapporti con la GDO, visto che parliamo prevalentemente di GDO, è proprio quella di cercare di convincere i nostri partner, mettere il consumatore al centro di tutti quelli che sono le nostre azioni. E poi è lì l'unico modo per poter poi veramente instaurare questo dialogo diretto, che serve proprio per massimizzare il valore dei prodotti che poi andiamo ad offrire. Io credo che dal punto di vista generale, io vengo da tutto un altro settore, sono qui, sono arrivato in Filiani da poco più di sette mesi, arrivo dal mondo della moda, dell'abbigliamento, dello sport, quindi per me quello che ho sentito insomma degli ultimi interventi è proprio l'idea che stiamo vivendo un po' una fase di trasformazione nelle relazioni anche con i nostri partner e noi come industria in qualche modo dobbiamo cambiare il modo di fare business con i nostri partner e cioè quella di cercare di mettere sempre al centro il consumatore. Io credo che sia questa un po' la chiave di volta che ci vede, la sfida che in qualche modo ci vede tutti i protagonisti nei prossimi anni. Io arrivo in ritardo a questo webinar e mi scuso ancora, proprio perché stavamo presentando il nostro piano a uno dei nostri clienti più importanti strategici che immagino sia altrettanto importante e strategico per tanti altri interlocutori, proprio perché abbiamo cercato di cambiare un po' il punto di vista dell'attività negoziale, cioè decidiamo insieme cosa vogliamo fare per il consumatore, non è più l'industria che vende al distributore ma è industria e distribuzione che insieme trovano il modo per dialogare verso il consumatore e quello che un po' tutti stiamo vivendo purtroppo in questi mesi non fa altro che accentuare ancora di più questa visione strategica, cioè il consumatore che oggi sicuramente è diverso rispetto a qualche tempo fa, richiede per forza di cose un dialogo di valore completamente diverso ed è questo che io penso debba essere un po' il next step che l'industria e la distribuzione insieme devono per forza di cose fare se non vogliamo che sia poi Amazon domani a prendere le quote della distribuzione perché poi è quello un po' quello che sta avvenendo per certi aspetti. Io dico questo perché arrivo da un settore in cui l'avvento dell'online per esempio, quindi magari tocco un tema al quale magari già stava pensato di arrivare o comunque io credo che sia rilevante discuterne, arrivo da un settore in cui fino a cinque anni fa non si pensava potesse essere così rilevante. Ci sono paesi nel mondo del, non della nostra industria ma di altre industrie dove da 5-6% la quota dell'online è diventata oltre il 50%. Questo perché? Perché chiaramente il consumatore che oggi noi, il consumatore con il quale noi cerchiamo di interagire tutti i giorni, il consumatore è più voluto, più informato e che pretende di avere delle informazioni più autentiche. Ecco, senta, proprio a tal riguardo, io le faccio subito una domanda. Qual è il ruolo di Fileni nel mercato delle carni? Il nostro ruolo è proprio quello che vi dicevo prima, la nostra ambizione più che ruolo è quella di portare un valore di autenticità, cioè un valore che parte dalla sostenibilità perché la nostra strategia è fortemente incentrata su tutto ciò che è sostenibilità ambientale e sociale. Quindi il nostro ruolo è quello di essere un player totalmente sostenibile, o perlomeno questa è la nostra ambizione, e che venga visto appunto il brand Fileni non solo come un produttore di prodotti alimentari, ma in qualche modo che possa diventare, attendere un brand che ispira i consumatori sui temi legati alla sostenibilità ambientale e sociale. Ci tengo molto a dire questo proprio perché è il nostro ruolo, cioè il ruolo che noi vogliamo ricoprire all'interno del mondo del carni è proprio questo. Ecco, per esprimere i valori che lei andava citando adesso al consumatore finale è necessaria un'attività di marketing rilevante. Domando quanto, secondo lei, è importante il packaging nel mondo delle carni. È molto importante perché il packaging oggi è una vera e propria piattaforma di comunicazione. Accennavo prima i progetti per il 2021 e non solo, il tema della sostenibilità, dell'economia circolare, della filiera controllata diventano un asset nel momento in cui tu riesci a raccontarlo. Il packaging è uno di questi asset importantissimo, grazie alla realtà aumentata piuttosto che alle attività proprio di comunicazione che si possono sfruttare con i semplici qualcode ma anche con la realtà aumentata, si può davvero ingaggiare il consumatore nel raccontare quelle storie di autenticità. Quindi passi un po' da quello che è il classico storytelling allo story being, come si dice in gergo Marchettaro, cioè in cui tu la storia che racconti è la tua storia e quindi deve emergere l'autenticità. Il packaging è il primo contatto diretto che tu hai con il consumatore per fare questo, al di là di tutti gli investimenti di cui le parlava. Però in realtà, le do un piccolo dato che è molto rilevante, il nostro MPS è più alto di quello dei nostri competitor. Quindi questo cosa sta a significare? Significa che il consumatore non solo ci apprezza in quello che facciamo, ma ci promuove. Quindi è un indicatore che per chi fa brand è veramente molto rilevante. Vuol dire che ci promuove. E perché ci promuove? Proprio perché riesce a comunicare con noi attraverso il packaging, perché in quelle sta oltre che la comunicazione istituzionale legata agli spot televisivi. Però in realtà il packaging sta veramente dimostrandosi di essere una chiave, una piattaforma di comunicazione molto rilevante. Non a caso noi su questo abbiamo innovato moltissimo. Ecco, citavo nella mia introduzione, e glielo ripeto, ma cose per voi ovviamente scontate, le minacce che alcuni movimenti di pensiero hanno mosso contro il mondo delle carni e che hanno pesato nel passato, ma che sono definitivamente attenuate, insomma, viene da dire, soprattutto per la risposta che il consumatore ha dato in questo anno, molto particolare per la sensibilità intorno al tema dell'ambiente e della salute. Faccio però questa domanda. Secondo lei e dal suo punto di vista, esistono ancora in questo senso delle minacce latenti? E qual è la miglior risposta che l'industria di produzione e trasformazione può dare a questo pensiero, a queste minacce che esistono, se esistono? Sì, esistono, nel senso che comunque c'è sempre grande focus intorno al mondo delle carni in generale. Io ci sono da poco, però mi è bastato per capire quanta attenzione ci sia su questo tema. Devo dire che noi stiamo cercando in qualche modo di rispondere con i fatti, cioè come. Innanzitutto il nostro percorso sul biologico da 20 anni è la dimostrazione del fatto che si può anche, si possono avere dei percorsi virtuosi. La nostra filiera è una filiera assolutamente virtuosa, soprattutto quella del biologico, e chiaramente c'è un'attenzione al benessere animale che non avresti se non facessi quel tipo di attività. Quindi sicuramente noi riusciamo a rispondere a questi attacchi proprio manifestando e dichiarandoci, come dire, in maniera proattiva su tutto il tema legato al benessere alimentare. Noi su questo stiamo facendo una serie di indagini, stiamo cercando di capire come fare per massimizzare ancora di più gli sforzi, per far sì che tutti questi movimenti, tutte queste associazioni che sono fondamentalmente rivolte a garantire il benessere alimentare, possano avere le informazioni necessarie per dimostrare il fatto che Fileni oggi su questo tema è veramente molto avanti. Il biologico ne è una conferma, ma non solo il bio, la questione legata agli allevamenti all'aperto, il pollo arricchito, che sono tutta una serie di tematiche che vanno incontro a quello che è l'European Chicken Commitment, cioè appunto una dichiarazione di intenti che l'Europa, queste associazioni fanno mettendo insieme tutta una serie di richieste alle aziende produttrici per far sì che si possa garantire e dimostrare che la fidiera garantisce quelle attenzioni che oggi il consumatore soprattutto vuole, ma che anche tanti, molti dei nostri partner, dei nostri clienti più strategici stanno cominciando a richiedere. Quindi è un po' un firruge, in qualche modo si collega, certo è, bisogna stare molto attenti perché a volte arrivano delle richieste che non sono realizzabili dal punto di vista proprio del processo produttivo, ma che di certo vanno prese con grande attenzione perché c'è anche del buono dietro a un certo tipo di richieste, proprio perché l'elevata, la richiesta di maggior qualità, di benessere animale, in qualche modo mescia esattamente anche con l'attenzione che il consumatore sta dando a questo tipo di filiera. Perfetto, perfetto. Dottor Sattini è stato molto interessante, molto utile il suo contributo, la saluto e la ringrazio. Grazie.